I tempi per fortuna qui sono probabilmente un po' più certi, come sapete la Giunta ha provato la volontà di proseguire con questo parterranato pubblico privato, per cui lì invece le scadenze sono già un pochino più definite. Diciamo che tra un anno a quest'ora si dovrebbe vedere invece il cantiere. Era giugno del 2021 e così parlava l'allora assessore allo sport del comune di Como Marco Galli del futuro della piscina di Muggiò. A un anno da quelle affermazioni sarebbe dovuto partire l'atteso cantiere per la riqualificazione dell'impianto. La realtà è noto e andata diversamente. Il cedimento di alcune porzioni del controsoffitto nel 2018 e la conseguente chiusura della piscina fu la prima doccia gelata per gli sportivi di Como. Poseguirono nuove chiusure legate dapprima a interventi di manutenzione ordinaria dal 24 aprile al 1 maggio del 2019 e ancora la rottura di una vetrata. Infine lo stop definitivo delle attività dal 1 luglio del 2019. Una chiusura per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lavori che però non vennero mai seguiti fino ad arrivare ai giorni nostri con l'impianto ancora chiuso. Uno scandalo che dura da quasi 5 anni. La precedente amministrazione guidata da Mario Landrescina avrebbe voluto riqualificare la piscina di Muggiò con il progetto pubblico privato da circa 9 milioni di euro. presentato dalla società Nessi e Magliocchi assieme ad altri partner per ripare completamente l'impianto. Progetto invece accantonato dall'attuale amministrazione comasca guidata da Alessandro Rapinese. Fin dall'inizio del suo mandato non sussiste più l'interesse pubblico per l'ente alla realizzazione della proposta data la sua elevata onerosità. nonché stimati i tempi di aggiornamento della proposta stessa era scritto nella delibera di giunta di Palazzo Cernezzi. Ora la piscina rientrerebbe in un progetto più ampio di riqualificazione dell'intera area di Muggiò e il sindaco annunciata a breve novità sul tema. È dall'inizio del mandato che lavoriamo su Muggiò. È un tema estremamente spinoso. Ci sono una serie di criticità che affrontiamo regolarmente. Non ci sono novità oggi. Ci saranno a breve. Intanto svolta civica con Barbara Minghetti e Giovanni Frassi torna all'attacco sul tema della piscina di Muggiò con un video pubblicato sui social. Due anni fa eravamo qua davanti alla piscina a presentare la nostra candidatura. Eravamo partiti proprio dalla piscina perché credevamo che il progetto di Project Financing presentato da Nessi Maiocchi, che peraltro abbiamo votato l'ultimo consiglio del sindaco Landriscina, fosse un buon progetto. E così, più o meno, credo che mancherebbero un paio di mesi all'apertura. All'apertura di una piscina nuova, olimpionica, con piscine anche collaterali. Insomma, un nuovo impianto sportivo di alta generazione.